Ti muovi scureggia Rumori potenti Per favore dai mi fai morire Ok ho preso un po' di carne Per favore Dai Per favore Dai mi fate morire Oggi ragazzi siamo sulla hardcore di minecraft E oggi pensate un po' dovremmo camminare solo nelle barche Perché? Perché le barche sono belle E quindi dobbiamo andare Forza venite seguitemi amici miei belli Oh levati Eh? No si doveva arrivare Eh si Allora classico come Chiara si scelta Santa Gian Giubertona Santa Gian Giubertona Aiutaci tu Hai sbagliato male Mi sto già stupando con questa barca perché non si muove Allora facciamo una cosa Tu Chiara Ora come al solito vai a prendere gli alberi Angela fredda Bellissima simpaticissima Ok volo E vai a prendere Vai a prendere della pietra Nella caverna Vai Andate Ovviamente ragazzi per saltare i blocchi Allora per saltare i blocchi in giù non serve Non serve Diciamo scendere dalla barca Ma per Diciamo andare su ovviamente Dobbiamo per forza saltare No allora scusa se interrompo Però quando stai sulla barca Il tempo di Distruzione di un blocco È tipo Moltiplicato Cioè tu ci metti di più per scoprire un blocco Ah E beh mi spiace Mi spiace Ciurma E dovete Vabbè allora facciamo così Per Basta che non vi muovete Cioè voi vi mettete sotto l'albero Ok E poi Diciamo iniziate a scavare scendendo giù Cioè scendete giù dalla barca E iniziate a scavare eccetera Adesso anch'io vado a prendere delle cose Fateci sapere se vi piace questa modalità sotto nei commenti Secondo me è carina Allora io raccolto un po' di blocchi Tu Angelo a che punto sei? Tengo roccia E poi c'è una pecora sulla nave Eh sulla barca Sì sì non si aspettava che io iniziassi Lo so lo so Allora Chiara invece Tu stai prendendo Cioè come abbiamo detto prima in pratica Per prendere gli alberi possiamo scendere Basta che non ti muovi Adesso metti la barca giù Metti la barca giù e salici sopra Brava brava Ecco così si può fare ovviamente Perché non è che ti muovi Però diciamo non si può fare il contrario Non è che ti puoi muovere in giro tranquillamente No Allora Ora Subito dopo quando Angelo ci darà Diciamo guardatelo là Con una pecora in barca No vabbè Eh so quello diventato più pesante Eh Non so che No voglio vedere Aspetta Eh beh 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 Allora Allora Grazie bravo Allora Datemi tutte le vostre cose che avete Adesso vi distribuisco cose No mi sono bloccato Come ti sembra Allora questa pecora io la odio Quindi adesso la uccido Mi spiace No 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 Scherzavo Mi sono sbloccato Ti sei sbloccato Beh ma Angelo Vabbè ok se riesci puoi andare Dai su Allora L'animale da compagnia Dateci Dateci Datemi Eh che cosa ho detto Madonna Datemi le cose che avete Allora adesso vi crapto Delle bellissime cose Prima di tutto Io mi crapto un piccone Perché non è possibile Non craptarsi un piccone Nel 2020 Cosa No Eh 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 Cos'è che state facendo Cos'è che state facendo No 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 Eh è scesa È scesa la barca È scesa È scesa Perché è scesa Non è vero Non è vero Allora Allora Non vale però Fare diciamo Farvi cadere giù apposta Diciamo Liteigare fra di voi Non vale Eh Non vale Quindi adesso Adesso datemi quello che avete Così vi distribuisco Poi me ne scape Cosa state facendo La pecora Eh mi spiace Per la tua pecora Dai Allora su Poi ti ha già dato Mi hai dato Cos'è che mi hai dato Vabbè ok Il legno Grazie grazie Allora adesso io Vi crafto una Allora Chiara sarà quella Che prenderà altro legno Quindi Chiara No Chiara stai ferma Se no mi arrabbio Allora Non sono io Anche tu Angelo Stai fermo Poi il piccone Il piccone lo do ad Angelo Perché ovviamente Lui è il picconaio Cioè nel senso Lui deve andare In miniera A picconare E Dai Smettiamola Allora Oh Prendi ste cazze Di piccone Allora State degenerando Sto video Mamma mia Il picconaio magico Dai allora E qua Allora io vi crafto Diciamo delle spade No 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 Allora vi crafto Delle spade in pietra Ok Perché sono Buono di cuore Ok grazie Buono di cuore Cos'è che sta succedendo Angelo Angelo Beh non si chiara Eh Angelo Non si dice Stavo pure Scusando chiara Sono preso in una caverna Ho perso il tuo cuore Ah che peccato Angelo dove sei Ma io mi piace Beh allora Angelo Tu adesso cerca di Di ritornare su Se devi saltare i blocchi Come faccio Scendi dalla barca Se devi saltare i blocchi Guarda dove finito No vabbè ma è un disastro Cioè io non so Che schifo Vabbè qua io scendo dalla barca Per la prendere il legno Per la prendere il legno Allora Chiara Tu vai a prendere Allora prima di tutto Dobbiamo spostarci Da questo bioma di schifo Perché non so se a voi Vi piace questo bioma Di acacia Amici tunisiani Ma a noi non piace Dobbiamo spostarci Da questo bioma E dobbiamo andare In un bioma più bello Quindi dobbiamo navigare Per Eh Eh In serio ho detto In serio Oh No Che caspita Madonna Chiara Oh no basta Adesso io vi punisco Vi metto in prigione No raga Ho perso la barca Dove è la barca Tu hai il legno No Allora Ti crafto di nuovo la barca Però Angelo Fai schifo Ok bravo Meno male Meno male che hai fatto Allora adesso Dobbiamo spostarci Venite con me Dobbiamo spostarci In un altro bioma E in quell'altro bioma Dove ci sposteremo Pensate un po' Eh vabbè qua usate Usate Scendete giù Mamma mia Ok scendete Dammi la barca Madonna Chiara chi Ma Eh Non me ne sono accorta Eh Vabbè No però io devo alzare la cosa Ma lo sta andando Angelo Eh con la barca Eh Con la barca No Angelo Che c'è Sei sicuro che stai andando con la barca Beh guarda C'è Ok Ok Spero per te che stiate andando con la barca Eh dobbiamo salire Se no Sì 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 salite Salite tranquilli Vabbè ovviamente Se dovete salire Potete salire Non è che Cioè nel senso Se no Come caspita facciamo Io vi do Eh c'è Esatto Allora Se vi mette CTRL Andate più veloci del solito Quindi premete CTRL Sì 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 Eh sì CTRL È gutter Non è più veloce Però vabbè Non contraddirmi Allora Cos'è che c'è là su C'è un albero come alzo No è brutto l'albero Io voglio un nuovo bioma Amici E ricordate Perché sono più lenta Perché Perché devi premere CTRL Chiara No non cambia niente Non cambia niente No quando scendi giù dai blocchi Cambia Ok Quindi premete CTRL Eh a me non funziona È perché puzi Oh Ah È Ovviamente perché puzzo Sì 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 Ecco adesso Silenzio allora Prima di tutto Adesso sta diventando notte Quindi sapete cosa succede Se diventa notte Succede che arrivano i mostri E noi siamo nella hardcore Quindi se moriamo Se moriamo Va a finire che Finisce la serie Quindi non dobbiamo Far finire la serie Ok Quindi ora Dobbiamo prepararci Dobbiamo velocemente Andare verso quella montagna Veloci E prendiamo anche le mucche Uccidete il più possibile Ok Veloci Non perdiamo tempo Perché sta già arrivando No vabbè raga Qua è impossibile Ammazzare le mucche Qua è impossibile Aiuto Vabbè Proviamoci comunque a farlo È un piccolo Ma viene notte ora Hai ragione Allora visto che viene notte Ci barichiamo Andiamo No andiamo direttamente là In quella montagna E ci scaviamo le cose qua Saltiamo Facciamo così Ok Mannaggia Chiara è alla sua barca Grazie Grazie Chiara Veloce Veloce Ma no 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 Se arriva Se moriamo Non è possibile Quindi veloci Veloci La mucca No Cosa sta succedendo Cosa Brava brava Porta la mucca Allora però state State attenti Perché qua possiamo morire Non va bene Se moriamo Io ve lo dico Se moriamo Va a finire male Allora Fate quello che vi dico Ok Questa mucca Basta L'ho ammazzata Perché non è possibile Allora Forza Andiamo Dove siete Ci siete Ok Bravi Allora Andiamo Vabbè Qua scaviamo Ok Vabbè Qua per scavare Come al solito Scendiamo giù Dalla barca Poi No No la barca Ragazzi No 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 Allora Dobbiamo muoverci Dobbiamo muoverci Allora Per spostarci Dobbiamo comunque Usare la barca Ok Però Cioè non dobbiamo muoverci Tanto di un blocco Ok Capito Eh no Eh parlate bene Mannaggia voi Chiara Questo Aia Deve essere più ad alta voce Ok Aia Così è troppo ad alta voce Stiamo facendo tipo Una De Florislava Che c'è Sulla barca Una sorta De Florislava De Barchislava De Barchislava Mamma mia Che tristezza De Barchislava Sì Esatto No Fate finta di niente Voi non mi vedete Ok Voi non mi vedete Veloci Entrate dentro Aspetta che c'è un buio Senza fare Senza fare doppio senso Esatto Bravo Bravo Angelo Tu si Angelo Muoviti Vai Bravissima Aspetta No Nemmeno Si può dire Come Però anche io sono scemo Lo ripeto pure Allora Devo fare più spazio Devo fare più spazio Devo fare Capito Cioè vabbè comunque Nel caso non aveste capito Aveva detto sedere Prima Ragazzi Sedere Il sedere grosso Diceva Però Quindi non riesce a passarci Allora Vediamo se ce la facciamo Però ora in teoria Siamo al sicuro Chiudi dietro Brava Chiara Brava Brava Ok ci siamo Ok No Mettete altra luce Brava Bravo Brava Angelo Sì brava 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 il mio secondo nome Sì Cos'è che hai detto Ripeti meglio Perché non si è sentito Come al solito Non ho detto niente Non ho detto niente No 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 Andava bene quello che hai detto Angelo Però più alto Cosa Ti dico cosa mi hai detto Brava è il mio secondo nome Vai Ah Eh Chi l'ha detta sta cosa Tu l'hai detto Ripeti Come l'ho detto io Allora Ripeti quello che hai detto Ma Ah Chiara Chiara aiutami Aiutami Se no Se no L'ucid Mamma mia Ok Ripeti 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 bene Bellissima Eccolo ho ripetuto Io non l'ho sentito No infatti Non ha detto No vabbè Io mi deprimo Non sei più mio amico Basta Ma che ho detto Hai detto No hai detto niente Questo è il punto Allora Oh mio dio No Fate pinta di niente Allora Allora Silenzio Allora Adesso Dobbiamo fare Le persone seri I bunisiani Anche voi Seri Dobbiamo essere seri Chiara seria Se no Ti metto anche a te Il blocco di granite Insomma In quel posto Sì E non potrei dire Oh Santa Santo Gian Giuberto Il Vabbè No Il supremo Allora Il supremo Gian Giuberto Angelo Cosa è che stai facendo ora Ho finito il piccone Sto scavando No Stai parlando Stai dicendo No Non si dicono Se devi dire cose di senso compiute Lei dice Altrimenti stai zitto Ok Ok Bravo Bravo Molto bene Molto bene Yeah Mi vedo il piccone in pietra No Stupido Allora Silenzio tutti Adesso mi ascoltate per favore Se vi vedo ancora una volta Darvi una picconata Vi vanno dalla serie Ok Non potete darvi le picconate No ma io ho finito il piccone Perché Perché se morite per questa cosa Eh Angelo O Chiara Perché ho visto tutte e due Che stavate Vi stavate dando i picconi Se morite per questa cosa Poi mi arrabbio Allora Non ridere Guarda No vabbè Adesso io l'ammazzo No l'ammazzo Ce la faccio Non ce la faccio Allora Si è alzato Non so se ci stai Non so se ci stai Nendendo conto Stiamo in una hardcore Sulla mia serie Io vi ammazzo letteralmente Se fate i cretini Quindi Angelo Angelo Allora Non sei simpatico Angelo Angelo No No vabbè io No basta Ragazzi Siete dei cretini Cretini Grossi Quanto una casa Allora Cos'è che state facendo Cos'è che state facendo Guardalo No vabbè No vabbè Dunisiani Io propongo una petizione Da casa Propongo una petizione Dobbiamo Togliere Angelo Dalla serie E Chiara Che sta ridendo Di lui No respiro No basta 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 Angelo Basta no 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 Allora Forse per il prossimo video Forse per il prossimo video Ci sarà ancora Allora Angelo Te lo dico chiaramente Adesso ti pardono Ok Ti pardono Perché Ti pardono Ok Angelo Vabbè Ok Allora Però Se ti vedo ancora una volta Ridere per una cosa così seria Per una mia serie Sai dove Ma Non rido più Non rido più Ecco Brava Anis Eh dimmi Mi serve un piccone in pietra Eh un piccone in pietra Sai dove te lo crafti Vai Allora Eh Avrei un posto in mente Però ok Sì brava Brava Fanno Adesso vediamo se è giorno Oppure no È giorno Forse Secondo me è tornata notte Sì è giorno È giorno Può essere anche che tra poco Torni notte Allora Cosa stai dicendo Chiara Eh ho detto che qui c'erano tre blocchi Però Non ci ho messo la barca Perché sono saluta a scendere e risalire Ah ok Spera la barca è troppo cifrona Comunque Andiamo Sì esatto Mamma mia che pizza ste barche Angelo è colpa tua È tutta colpa della barca È tutta colpa della barca Eh sì Tu sei la barca Grazie Dai Allora Emi se le chiappe grosse Sì anche tu Dai Ok Ok allora Dovete seguire me però brutti Cervelli non cervellosi Dove Oh Oh c'è il mare Io sto aspettando te Dove sei finito Angelo C'è il mare Allora Potete salire ok Chiara qua puoi venire per salire così Ok C'è il mare Dici Angelo È un fiume Ok Ah un fiume Bene allora usiamo questo fiume per andarcene Venite Ah e qua c'è la pianura Duniziani Vedete che alla fine l'obiettivo era quella di trovare un nuovo bioma E l'abbiamo trovato Vedete Sono le gra Le canne Ci sono Aspetta le canne Le canne di zucchero Le canne di zucchero Ma cosa pensi Chiara Ma io veramente Le canne di zucchero sono Sono buone per fare i I biscotti Le torte Sì le torte Le alghe Quelle sì Quelle che crescono nel sedere di Angelo Che schifo Angelo Ma E perché non si lava No scherzo Chiara Sei volgare Crescono le alghe Chiara Chiara Allora Allora Dai forza andiamo No qua Di nuovo il bioma odioso Che schifo Venite venite Andiamo Chiara sei grass Mi sono buggata Anch'io Anch'io mi sono buggato troppo Non è possibile Stavo trovando tutta Che schifo Cosa ti stavi trovando Stavi facendo Stavo trovando tutta Stavo trovando Ah beh La barca La barca Si la barca Madonna Allora io secondo me mi chiuderanno il canale prima o poi Io ho questa convinzione YouTube mi chiuderà il canale Ma perché Chiara Colpa di chiacchiera Ma guarda Ho un po' di persone in mente in questo momento Per colpa di chi Però vabbè Non faccio nomi Perché se no sapete è ingiusto far nomi Allora Di qua si torna alla savana No 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 Guarda No però C'è il cervello Eh volevo dire c'è il deserto Oh mi spostate Oh no Stiamo tornando indietro Angelo mi è dato quasi una spatata Vabbè Cos'è che hai detto? Stiamo tornando indietro di qua Ma stiamo tornando indietro di qua Ma sei sicuro? Fidati sì Ma perché allora c'è il verde qua? Dobbiamo andare dall'altro lato Di là Dove? Di qua Di qua Di qua Ok Quindi Quindi da questa parte Perfetto Io con il senso dell'orientamento Non ci siamo proprio Vabbè Siamo amici Godo come un riccio appena nato Da poche ore Oh mamma mia Mamma mia Mamma mia Ok Dai allora Facciamo il senso Allora poi ci dico Io non sto ridendo eh No fai bene Fai bene a ridere Fai bene a ridere Però Allora Angelo Quello che ti dicevo io prima E che dovevi capire l'importanza di questa serie Perché se poi tu ci muori E poi Capito Cioè Capito Poi dopo le persone dispiacciono Dispiace anche a me Capito Oh che bello Abbiamo finalmente trovato un deserto Abbiamo camminato in lungo e in largo Vabbè Non così tanto però Ok Ma guarda di dietro no Prima di parlare Sì 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 Allora Guarda di dietro Chiara cosa stai No chiara No chiara Vabbè dai Puoi restare Puoi restare se vuoi Che brutta cosa Allora Angelo Tu devi stare sempre dietro di me Perché i pericoli incombono in questa serie No Sei un cretino come Ma no Vabbè io mi deprimo Io mi deprimo Me lo meriti Sì Sì Me lo meriti Perché io Io a volte Non è che faccio attenzione ai miei amici A quelli A quelli che scelgo No A quelli stupidi Sì 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 E ne ho in mente un po' di stupidi in questo momento E appunto vedi Tutti le persone come me Che non c'è Intelligenti fino in fondo Beh oddio Chiara Allora Come te proprio Per favore Guarda Quasi quasi Angelo Ti fa Vabbè Cosa? No niente Lasciamo stare Se no poi dopo qua Il video viene rimosso di nuovo Per la trentesima volta Ormai questo video Angelo cosa stai Oh vai dietro di me Che Dai Vedi Vedi No vabbè Ma che Te lo meriti Te lo meriti Te lo meriti Eh Andiamo E saltiamo di nuovo No vabbè Io questa barca la sto odiando Duniziani Fatemi sapere se volete Scurro No Chiara scusa Quanti mori hai? Tre e mezzo Ammazza le mucche Aspè vado a ammazzare le mucche Che ci sono dietro Ok vai a ammazzare Scurreggia Chiara Chiara scurreggi troppo No vabbè Chiara che schifo Sai perché la barca andava Cioè la tua barca Va a scorreggere Non a remi Ti muovi scurreggi Rumori potenti Che potremmo Per favore dai mi fai morire Ok ho preso un po' di carne Per favore Dai mi fate morire Allora ragazzi Angelo Abbiamo deciso che Angelo cuoce le cose Perché ha preso un po' di cose Mentre noi adesso costruiremo la casa La casa E quindi E quindi adesso andiamo a costruire la casa Tu dove dici di farla Dammi un consiglio Senti Saliamo così Saliamo qua Allora vuoi farla Pazzo Hai un cazzo Tu sei una scorreggia Dai Infatti quando parla Allora Allora andiamo avanti Sennò qua ti genera come prima Nooo Non ti offendere Dai Allora Dov'è che vuoi farla La casa Deserto Allora deserto Ok Io direi di farla su quell'altopiano Così riusciamo ad osservare meglio Tu cosa ne dici Su quale altopiano Ah quello Sì su quello Ok Vai Vabbè andiamo Sali Mannaggia Sali A Gian Giuberto Secondo sto Gian Giuberto Quanto lo odio Che tutte le volte Chiara fatti una barca Hai ragione Hai ragione pure tu Allora qua saltiamo Andiamo Andiamo ad approdare Poi Angelo Tu quando hai cuociuto tutte le cose Eh Sì Cuociuto Ok bravo Vieni qua da casa Duni Se Chiara Ed Angela Fedda Angelo Ok No problemo Ok Ok Evitiamo Evitiamo di nuovo Se no Youtube come al solito Ci chiude il video Ci chiude il video Sì Dice no Content non the boost The speech boost Sì E la sfida Chiara Fateci sapere Duniziani Se nel prossimo video Volete vedere ancora La sfida con le barca O semplicemente Una hardcore normale Fatecelo sapere Vi lovo tanto Nel corazón Mi raccomando Corazón Spagnolitto Corazón Non Corazón 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 Eh Allora Angelo Tu quando hai fatto Tu quando hai fatto Fai una cosa Roberta vuole parlarti Ok Cosa sta dicendo Cosa Roberta Lascia perdere Roberta Allora Tu Angelo Quando hai fatto Allora Prima di tutto Angelo Prima di tutto Stai attento Ok mi raccomando Tu stai attento Cerca di non morire Va bene No problema Ok bravo Perché se muori No 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 Cerca di non morire Perché poi Se muori La serie Non è che la serie finisce Perché la serie finisce Se muoio io Però Capito Angelo Se tu muori Non ci sei più nella serie Capito Vabbè Chiudiamo questo video Prima che finisca male Allora grazie per aver guardato Questo video Doniziani Se siete arrivati Fino a questo punto del video Scrivete burro cacao Che io uso Perché sennò Mi si strepolano le labbra E quindi grazie Ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao Ciao